Siamo con Massimo Nicastro, il nuovo patron della cattolica marignanese, è venuto a far visita alla nuova realtà. Come nasce il progetto Cattolica e il perché di questa operazione? Come molte cose per caso sono sempre rimasto attaccato a questa terra, a Rimini, la provincia di Rimini, la Romagna in generale e quando si è presentata l'occasione di prendere una squadra gloriosa come Cattolica ho pensato che poteva essere il passo giusto per rimettere piede nell'amata Romagna. Cosa prevede il progetto, che ambizioni ci sono e che raggio temporale può avere? Beh, è un progetto quinquennale che stiamo sviluppando e questo è l'anno zero in cui siamo partiti che prevede uno sviluppo del settore giovanile innanzitutto, un potenziamento della squadra e un potenziamento delle strutture e del bacino di influenza del Cattolica. Questo avverrà attraverso vari steps nell'arco di 3-5 anni pensiamo. Tu sei alla guida anche dei Miemi, la squadra della città americana, ecco, che sinergia si può creare se si può creare con questa realtà d'oltreoceano? Sì, sono presidente anche del Miami Beach Club de Football, oltre che del Cattolica e cercheremo sempre più di unificare e di avere relazioni fra le due realtà, infatti già domani abbiamo in arrivo un ragazzo del Miami Beach per provare con Cattolica, un ragazzo argentino, quindi di un altro continente ancora con origini italiane che verrà a provare per il Cattolica e magari potrebbe essere utile per la squadra. Il rapporto con l'amministrazione comunale vi affianca, vi è di supporto in qualche maniera o no? Sicuramente, devo dire che ci ha dato una grande mano, devo ringraziare molto il sindaco di Cattolica Mariano Gennari perché è sempre stato presente, ci ha aiutato nei vari step per fondare la società e farla crescere e contiamo molto su di lui anche per un radioso futuro. Devo dire che il fatto di avere un'amministrazione che ti sostiene, che è appassionata e fa una grande differenza soprattutto in questo periodo che è di coronavirus. Per concludere, sotto il profilo strettamente sportivo, qual è il traguardo a cui ambisci per questo primo anno in cui la squadra del resto è una matricola? Io pensavo di vincere la Champions League, però mi hanno detto che non è possibile partendo dalla Serie D per cui direi rimaniamo in Serie D perlomeno e poi dopo giochiamoci, le partite sono tante, il campionato è lungo partiamo con una buona squadra io penso, con delle buone ambizioni e poi mai dire mai.